L'antiedipo di Deleuze Guattari potrebbe essere ragionevolmente inteso come il manifesto programmatico del 68. Il testo esce nel 1972 e condensa in sé quello spirito emancipativo, libertario e antiborghese che è il punto fisso della cultura sessantottesca, o meglio della cultura dei 68, perché il plurale dovrebbe essere d'obbligo quando si parla di un movimento così articolato, strutturato e polifonico, il cui trait d'union comunque resta, come mostrato da Costanzo Preve nel suo libro L'alba del 68, una critica che si indirizzava sostanzialmente contro la cultura borghese pensando che ciò coincidesse con la critica del capitalismo e che invece finiva per assecondare per ciò stesso un capitalismo in fase di sviluppo verso la società dei consumi che aveva bisogno di liberarsi dell'elemento borghese per trasformare tutto in merce e in desiderio reificato. Sicché l'antiedipo stesso nella sua struttura generale può essere letto come animato da questa contraddizione, perché la tesi di fondo dell'antiedipo è quella secondo cui occorre mettere in congedo i valori della civiltà borghese lasciando intatti concreti rapporti di forza capitalistici che vengono in qualche misura associati alla cultura borghese stessa. Cioè l'idea è che criticando la cultura borghese, i suoi retaggi paternalistici, opprimenti, morali e ipocriti, si critichi per ciò stesso il capitalismo. Ma non ci si accorge, almeno non si accorgono dell'eseguattarifino in fondo, che è il capitalismo stesso in quella fase che sta sottoponendo a critica la borghesia e il suo mondo valoriale per farsi capitalismo assoluto, totalitario e post-borghese. Sotto questo riguardo l'antiedipo è la più lucida esemplificazione di una contestazione antiborghese e perciò stesso, inavvertitamente, ultracapitalistica, una sorta di elogio del desiderio contro la legge nella convinzione che l'ess, per dirla freudianamente, l'ess, l'inconscio, esprima la potenza fondamentalmente anarchica di un corpo capace di godere ovunque senza limiti o leggi. Come scrivono Deleuze e Guattari, l'ess funziona ovunque, ora senza sosta, ora discontinuo, rispira, scalda, mangia, cacca, fotte. Queste le parole testuali di Deleuze e Guattari. Nel suo andamento generale l'antiedipo rovescia la struttura del complesso edipico e individua nel desiderio non già l'esito perverso della proibizione del desiderario infantile. Al contrario, ravvisa nel desiderio, in modo differenziato, una sorta di libertà che deve essere posta in essere. Più precisamente, il modo sofisticato in cui la borghesia aspira a privatizzare e a disciplinare i flussi dei desideri deve essere rovesciato liberando il desiderio. A giudizio di Deleuze e Guattari, infatti, bisogna liberare i flussi del desiderio nella convinzione che l'uomo non sia altro che una machine desirante, una macchina desiderante. Noi siamo per nostra natura, spiegano i due autori, non un animale politico aristotelico, non un animale avente il logos aristotelico, siamo macchine desideranti. Siamo flussi e fasci, direbbe Hume, di desideri. Non siamo altro che desideri che si mettono in movimento. Ora, la poria di questa concezione, che pure presenta anche spunti di critica rispetto a un capitalismo borghese che reprimeva e limitava il desiderio sotto il peso della legge opprimente, sta nel fatto che accette integralmente la logica del desiderio illimitato proprio del capitalismo di consumo. Già Pasolini aveva accolto il transito da un capitalismo per sudditi disciplinare e fascista a un capitalismo sessantottesco, libertario, individualista, di libero consumo, di libero desiderio, di free market and free desire. Bene, Deleuze e Guattari, come molta cultura sessantottesca, criticano il primo capitalismo di fatto favorendo l'avvento del secondo, che si basa giusto appunto sul flusso illimitato dei desideri. È quella che potremmo chiamare l'ideologia francese di Deleuze e anche di Foucault in parte, autori diversi fra loro nonostante la stima reciproca, che però ugualmente favoriscono l'avvento di un capitalismo post-borghese e di desiderio illimitato. Da questo punto di vista Deleuze e Guattari insistono a oltranza direi sull'essenza liberante di un desiderio ormai privato dai limiti, dalle dande e dalle sbarre della cultura borghese. Ma questo desiderare illimitato, ciò di cui non si avvedono, non produce una società libera, produce la società dei desideri e dei consumi, cioè l'essenza stessa di un capitalismo ancora più radicale del precedente. E qui sta la funzione espressiva di quella che propongo di chiamare l'ideologia francese, da Deleuze a Lyotard, da Foucault a Derrida, quella che si caratterizza per la sua ostinata opposizione al pensiero dialettico, quindi a Hegel e a Marx, e per una sorta di liberazione delle differenze, un pensiero diversitario, potremmo dire, delle differenze che vengono valorizzate senza far riferimento all'elemento dialettico. Insomma, l'erramento dell'antiedipo, come di larga parte della cultura sessantottesca, è che scambia la lotta contro la borghesia con la lotta contro il capitale, quando è quest'ultimo il capitale, nel suo ritmo immanente, che deve distruggere il cosmo borghese. Per questo, da Deleuze a oggi, la sinistra è tanto più stretta alleata del capitale, quanto più contesta il mondo dei valori borghesi, che è quello che è il capitale stesso a contestare. Per questo, paradossalmente, dal 68 il capitalismo non è più di destra, come era in precedenza, militarista, imperialista, diretto, guerreggiante, è un capitalismo invece lasco permissivo, gauchist, che trova nel desiderare illimitato, ipertrofico, la propria razio essenti. E quindi l'antiedipo di Deleuze Guattari è un libro certamente antiborghese contro il capitalismo disciplinare pre-sessantottesco, ma è altresì un libro di capitalismo gauchist del capitalismo post-sessantottesco, che l'antiedipo finisce per legittimare in toto.